Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con questa partita epica Al momento ci stanno facendo vedere quali sono i migliori delle due squadre Mamma mia che figata assurda, questo lo fanno vedere solamente a metà tempo Aspettate che abbasso un po' perché E sto un po' a Rinton Team Allora, siamo sopra di 6 ragazzi, cominciamo questo terzo quarto con tanti bei punti cini sopra Tanti errori da parte dei Caps, veramente tanti, veramente tanti E soprattutto James non ha più segnato, oh, meno quale va Non ha più fatto tutti i punti che ha fatto al primo quarto Se ben ricordate nel primo quarto Lebron James ogni volta che tirava era gol, era sì, era gol, era punto 25 a 31, mi piace, mi piace Primo E lo mette, quando sbaglia Si possono già riportare a meno 4 ragazzi A meno 4 in questa finale della demo di NBA Live 16 Adesso è meno 5, vediamo un po' se indovina anche il secondo Fanno un gioco di squadra di sbagliare il secondo per provare un rimbalzo Mamma mia che fisicaccia Vai Pronti Vai Sono a meno 4 ragazzi, recuperano subito due punti alla loro prima azione Noi prima con un bel po' di contropiedi abbiamo fatto la differenza I backup Westbrook da 3 Niente Ah già, ho pure indovinato bene Il tiro Attento E la peppa Mamma mia, sono partiti questi Cleveland a palla in questo terzo quarto Già ci hanno recuperato 4 punti Cerchiamo di giocarcela meglio Durante Forza Bene Bene Oh Che cacchio di punto che hai fatto amico mio Fantastico Che gran bel punto Ritorniamo a più 4 Azioni in money caps però Dai 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 pressiamoli Dai pressiamoli da 3 ancora James Ragazzi Se riparte James così In questo terzo quarto Non ce n'è per nessuno Non ce n'è per nessuno Canter 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 No Bello Bello Westbrook No Fallo 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 I tiri liberi che facili non sono Dato che sono i primissimi che facciamo da quelli dell'altro quarto Aia Ah Dove riusci a mettere il secondo C'ho paura perché ne prende troppo il pallino Andiamo Mappa mia Come sudano Guardate pure l'effetto del sudore Che spettacolo Pronti regà Vai Messo 83% Mannaggia Peccato per quello prima Con che risiamo sopra nuovamente di 2 Che già ci danno una certa Sicurezza Ancora da 3 E basta Preso io Mamma mia I bacca dentro Canter No Non puoi sbagliare però così Canter Non puoi sbagliare così Non va bene No Fallo a Kevin Durante Fiscato Stava contro James Che stava quasi per tirare ragazzi Stava quasi per tirare Dobbiamo stare attenti a James Dobbiamo stare attenti a James Ancora Cesto Cesto Partiamo 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 Bello Bello Dentro Dentro No cacchio Fuori Duran Duran No Ancora Canter E lo mette Da pin 32-36 Ritorniamo Più 4 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sta partita Sempre più epica Ancora James Ancora James Che gioca da solo E lo sbaglia Incredibilmente Contropiede Contropiede Più Sei Kevin Duran Bel contropiede Mamma mia Mamma mia Ancora James Attenzione a lui Prende E sbaglia E non vale va Mamma mia Mamma mia Lebron Che devasto Che fa Sta reggendo Da solo Una squadra Ragazzi Da solo Una squadra Dai Sbaglia qualche tiro Libero E il primo Lo mette Ma questo è troppo forte E ritornano Secondo me A meno 4 Intanto adesso Meno 5 Intanto Meno 5 Ah Sostituzione Ok Torna Anderson 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 Dai Dai Gufate Gufate Ragazzi Dai Gufate Sbaglia 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 Lo mette La messi tutti Adesso Un 100% Come realizzazione Di tiri liberi Devastante Devastante Oh Sta dentro Sta dentro Duran Sta dentro Duran 34 Dove Però qualcuno Che deve andare Dentro Qualcuno Marob Dopo la tripla Di prima Dopo la tripla Di prima Forza Qualcuno Ibaka Ibaka Forza Forza Ibaka La mette Ibaka Ritorniamo Su più 9 Prendiamoci sempre Quelli più piccoletti Per Per giocare Recupero Mamma mia Solo 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 Mamma mia Che cacchio Penso Anthony Marob Più Undici E ora vediamo Che cosa ci inventa Lebron James Per recuperare Questi undici punti Vediamo un po' Cosa fa il numero 23 Dei Cubs Eccolo Subito recuperata Sta perdendo colpi Sta perdendo colpi Contropiede Mamma mia Più 13 Più 13 Più fallo Più fallo Tiro libero Che lo metto Mamma mia Più 14 Round decisivo Questo ci potrebbe dare Ragazzi La vittoria Della finale Mamma mia Che cosa ci potrebbe Dare questo Da 3 Ancora Lo mette 11 Mamma mia Cominciano a mettere I tiri da 3 So cacchi Sono cavoli Non dobbiamo scendere Sotto la doppia cifra Ibaka 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 La mette Grande Ritorniamo Va Più 13 Dai Dai Oh Però ragazzi Ragazzi Proviamo da 3 Subito Subito Mamma mia Si entrava Ragazzi Fine Terzo Quarto Ci vediamo Nel quarto Così Decidiamo Questa Finale Spero che il pizza Stasse a vostro Gratimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel Mi piace sul mio video Ci vediamo con tanti Noi video Sempre qui Sempre sul mio canale